Buonasera a tutti, nel Signore vi faccio un sunto della live di ieri, abbiamo parlato sempre per quanto riguarda la pienezza dello Spirito Santo, quindi abbiamo visto che la salvezza e la santificazione attraverso la confessione dei peccati, abbiamo visto queste due cose importanti. Ieri abbiamo esplorato a fondo Prima Giovanni, capitolo 1, dei versetti 7, 8 e 9, concentrandoci sull'importanza della salvezza per grazia e del processo continuo di santificazione, cioè consacrazione. 1. Abbiamo visto quindi la realtà del peccato, in Prima Giovanni, capitolo 1, verso 8, ci viene ricordato che in questa vita è impossibile essere completamente senza peccato. 2. Apro una parentesi, non sto dando la licenza a pecare, per chi pecca volontariamente, se lo Spirito Santo dopo un po' di tempo lo lascia, goodbye, non c'è più il ritorno. Quindi cercate di capire bene questo meccanismo. Quando ci fa riflettere sulla nostra natura umana e sulla necessità, continua praticamente la scrittura a dirci di rimanere vigili nella nostra comunione con il Signore, di camminare con il Signore. 3. Poi, il perdono e la purificazione dei peccati coscienti, questo è importante. Allora, la Bibbia ci dice che chi dice di essere senza peccato non è nella verità e vorrebbe fare bugiardo Dio, perché il peccato è quella condizione grazie alla quale nel sacrificio di Gesù Cristo che è salito in croce, che è morto per i miei peccati, quando io ho creduto questo con il cuore, il mio corpo del peccato è stato crocifisso con Cristo e l'ho lasciato nelle acque, grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Ok, però la natura peccaminosa rimane sempre dentro di noi. Ma quello che Dio ci chiede, ecco, quindi la prima fase per la pienezza dello Spirito è la purificazione. Quindi il perdono e la purificazione dei peccati coscienti. Abbiamo visto in 1 Giovanni, capitolo 1, verso 9, che il Signore ci offre il perdono e la purificazione da ogni ingiustizia che noi abbiamo commesso. E i nostri peccati coscienti, l'ingiustizia sono i nostri, le iniquità sono i nostri peccati di cui noi siamo a conoscenza. Quello il Signore ci perdona se noi chiaramente li confessiamo a Dio e ci pentiamo e chiediamo un proposito a Dio di non farli più, quindi chiediamo il dono del ravvedimento su quei peccati. Ok, quindi è fondamentale non trattenere nulla di peccaminoso nel nostro cuore. Oggi ancora siete in tempo. Ma portarlo davanti a Dio con sincerità è pendimento. Non dobbiamo lasciare nulla di incontaminato nel nostro cuore. Dopo vediamo perché non dobbiamo lasciare nulla di contaminato nel nostro cuore. Vediamo perché. Quindi solo attraverso la confessione far uscire dalla nostra bocca a Dio, rivolgendoci al Padre, con pieno pentimento sincero di cuore, otteniamo la purificazione e un cuore puro. È l'unico modo, non ci sono altri modi. Poi abbiamo visto la coscienza pura, come descritto in Atti, capitolo 24, verso 16, dove dobbiamo impegnarci ad avere una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi questo segna l'inizio del processo di santificazione o, se volete, consacrazione. Cioè, una volta che siamo stati purificati, che siamo stati separati dal peccato, inizia il processo di separazione per Dio. Siamo stati purificati. Egli è luce e noi siamo nella luce, siamo purificati. Va bene? Quindi, durante il quale, più ci avviciniamo a Dio, più Egli ci rivela anche i peccati nascosti. In altre parole, più ti santifichi, più ti consacra a Dio e più ti vedi peccatore, più senti il bisogno del Salvatore. Confessi e ti purifichi sempre di più, a un livello sempre maggiore. E' essenziale confessare ogni peccato cosciente e chiedere a Dio il dono del ravvedimento per non ripeterlo. Ok? Poi abbiamo visto la differenza tra peccato e peccati. L'ho spiegato poco fa. Abbiamo fatto una distinzione chiara tra il peccato che rappresenta la nostra inclinazione naturale e i peccati coscienti che dobbiamo confessare e lasciare. Sebbene non possiamo eliminare la nostra natura peccaminosa in questa vita, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie Gesù Cristo nostro Signore. Ok? Quindi possiamo essere salvati grazie alla grazia e alla purificazione che Cristo ci offre. Usiamola. Il Signore ci chiama a essere irreprensibili, cioè senza colpa davanti a Lui, confessando ogni peccato consapevole. Va bene? Poi saremo irreprensibili nella perfezione quando saremo davanti al suo trono. Questo chiaramente a causa del peccato, non a causa dei peccati. E i peccati ci dobbiamo pensare qui, se non dobbiamo pettarti. Va bene? Quindi la santificazione continua. La santificazione continua, abbiamo visto. Il processo di santificazione è continuo e richiede ogni giorno di purificarci attraverso il pentimento e la confessione, far uscire dalla bocca, rivolgendoci al Padre, pentendoci con un cuore sincero. Come affermato in Giuda 24 e in Colossesi 1, versetto 22, un giorno saremo perfetti davanti al trono di Dio, ma oggi il nostro compito è vivere nella santificazione quotidiana, lasciando che il Signore ci purifichi il nostro cuore da ogni peccato. Il punto cruciale, quindi abbiamo visto la parte più importante che abbiamo trattato è la necessità di non trattenere nulla di peccaminoso nel nostro cuore. I peccati coscienti devono essere confessati e abbandonati affinché possiamo vivere con una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Questo è il cammino verso l'irrepreensibilità, una condizione che possiamo raggiungere solo attraverso la continua opera di santificazione del Signore. Poi, abbiamo visto sempre ieri, mi faccio un sunto, della relazione con lo Spirito Santo dopo questa purificazione e santificazione. Nella live di ieri abbiamo parlato quindi nella seconda parte come vivere una relazione quotidiana con lo Spirito Santo. Pratica, non teologia. Abbiamo approfondito otto principi fondamentali pratici che ora vi riassumo. Abbiamo visto ieri una, la presenza. Abbiamo parlato dell'importanza di conoscere, o meglio, di riconoscere la presenza costante dello Spirito Santo senza soluzione di continuo. È sempre con noi. Dio è sempre con noi. Non è che adesso c'è e domani non c'è. Anche nei momenti più semplici, abbiamo visto il versetto Isaia ieri 41.10, l'esercizio pratico è iniziare la giornata riconoscendo la sua presenza e fermandosi un attimo per riflettere su questo. Poi abbiamo visto il secondo punto, la compagnia. Il secondo principio era la compagnia dello Spirito Santo. Dio vuole passare tempo con noi. Dobbiamo prestare coscienza alla sua presenza con noi come amico. Noi possiamo semplicemente stare in sua compagnia, chiedendo di sentire la sua voce. Secondo a Corinzi 13.14, un esercizio pratico è dedicare ogni giorno qualche minuto di silenzio solo per ascoltare e godere della sua presenza. Terzo, abbiamo visto la condivisione. Abbiamo parlato della condivisione. Dio vuole che apriamo il nostro cuore a Lui e in cambio ci condividerà la sua gioia e la sua pace. Prima Pietro 5.7. L'invito è di parlare apertamente con lo Spirito Santo di ogni emozione, di ogni situazione che stiamo vivendo. Poi abbiamo visto il punto 4, la partecipazione. Il quarto punto era la partecipazione attiva con lo Spirito Santo riconoscendo riconoscendo che siamo suoi collaboratori. Prima Corinzi 1.3.9. Il consiglio pratico è di coinvolgerlo in tutto ciò che facciamo chiedendo il suo aiuto e guida in ogni attività. Quindi il successo è invocare lo Spirito Santo. Invocare. 5.1.9. L'esercizio pratico è prendere un momento di preghiera personale chiedendo allo Spirito Santo di riempirci del suo amore e dandoci questa rivelazione. Poi abbiamo visto il punto 6, l'amicizia. Il sesto punto era l'amicizia con lo Spirito Santo. Lui desidera diventare il nostro migliore amico. Leggi Giovanni capitolo 15 verso 15, qualcuno con cui possiamo confidare ogni aspetto della nostra vita. Il suggerimento è trattarlo come un vero amico, condividendo con lui i nostri segreti e pensieri. Poi abbiamo visto il penultimo punto, il comandante, il capo. Lo Spirito Santo è anche il nostro comandante, la nostra guida amorevole. Romani capitolo 8 verso 14, ci guida verso le scelte giuste, ma dobbiamo chiedere la sua guida prima di prendere decisioni importanti. L'esercizio pratico è fermarsi e chiedere consiglio su cosa fare, dove andare. Ultimo punto è la rivelazione. Infine abbiamo parlato della rivelazione delle scritture. Lo Spirito Santo ci ricorda, ci rivela la parola di Dio, Giovanni 14, 26. Quindi l'invito è di chiedergli di guidarci nella lettura della parola per comprendere appieno i suoi insegnamenti. E lui ce li soffierà nel momento in cui noi glielo chiediamo, quando lui ritiene giusto farlo. In conclusione abbiamo visto come questi otto principi possono aiutarci a vivere ogni giorno una relazione più profonda con lo Spirito Santo. Ora, mentre passiamo alla live di oggi, possiamo mettere in pratica uno o più di questi esercizi per sperimentare davvero la sua presenza nella vita quotidiana. Bene, dopo aver fatto questa conclusione della live di ieri, che è importante, era proprio teutica questa perché non l'ha vista e vi consiglio di guardare il video che ho postato, l'ultimo video che ho postato perché è importante. Siete pronti per la vostra Pentecoste personale? Siete pronti? Attenzione! Per ricevere la vostra Pentecoste personale, questa sera ricevete delle rivelazioni importantissime dalla scrittura. L'ascensione di Cristo nel cuore del credente. Molti negano che Cristo non si riceve. Questi non hanno mai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, persone che dicono queste. O forse non erano ripieni di spirito. Quando qualcuno mi ha detto che Gesù non si riceve nel cuore. C'è scritto in Giovanni capitolo 1. E a quanti lo hanno ricevuto egli, Dio, ha dato l'autorità di diventare tecna, bambini di Dio. E ha inviato lo spirito del figlio suo che ci fa gridare, Abba, Padre, lo spirito del Signore Gesù Cristo l'abbiamo ricevuto. Dio è spirito. c'è un solo spirito. Quindi leggete le scritture. Se volete veramente fare la Pentecoste dovete capire come far ascendere Cristo nel vostro cuore verso una potente Pentecoste personale. E questa sera, se veramente aprite gli occhi, il cuore e la mente al Signore Gesù Cristo, chiedete allo Spirito Santo di darvi intentimento e sperimenterete la Pentecoste personale. Gesù, dopo aver portato a termine la sua opera di retenzione sulla croce, morì e fu sepolto e il terzo giorno è stato resuscitato dai morti. Cosa ha fatto? È vero che è stato lì con i discepoli, 40 giorni, eccetera, ma poi cosa ha fatto? È rimasto lì? No. Gesù è qui? No. È asceso al cielo e si è seduto alla destra del Padre. Da quel momento cosa è successo? È successo la sua glorificazione. Nel Vangelo ci dice che molti avevano creduto in Lui, però non avevano ricevuto lo Spirito. Perché? Perché ancora Cristo non era stato glorificato. Se non c'è glorificazione non c'è Pentecoste. Ma Cristo, prima di essere glorificato, ha dovuto ascendere al cielo, alla destra del Padre, pregare il Padre e inviare lo Spirito della promessa. Questo è quello che deve succedere nel tuo cuore se vuoi la Pentecoste. Va bene? Se no la fai solo a livello emozionale o nei filmini della tua mente, ammesso che la chiedi al Signore. Quindi da quel momento la sua glorificazione ha aperto la via per il dono più straordinario dopo la salvezza? Lo Spirito Santo. Ma questo non è solo un evento storico, è una realtà vivente. Lo Spirito Santo, quando avete creduto, vi ha sigillati con lo Spirito. Siete stati sigillati con lo Spirito. Ma quando avete creduto, avete ricevuto lo Spirito, non è inteso al sigillo. altrimenti non avreste creduto. Perché in Efesini, capitolo 1, verso 13 dice, eppure voi, dopo aver ascoltato il Vangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo. Quindi è chiaro che quando ascolti e credi, vieni sigillato. Ma un conte è aver ricevuto lo Spirito Santo. Attenzione! È una realtà vivente che deve accadere nel cuore di ogni credente. Se non hai ancora sperimentato la tua personale Pentecoste, potrebbe essere perché Cristo non è ancora glorificato nel trono del tuo cuore. La scrittura ce lo dice, santificate Cristo nei vostri cuori. E questa è l'ascensione. Se non glorifichi Gesù Cristo nel tuo cuore, lo Spirito Santo non ti riempirà. Stai trattenendo il Re fuori dal suo regno del tuo cuore. Romani, capitolo 12, verso 1. Il primo passo dopo che ti sei purificato di quella live che abbiamo fatto ieri, che ti ho fatto il sunto adesso, è il secondo passo. E questo è. Ora vi do una rivelazione scioccante quando sono andato sul testo greco stamattina. Quando dici Romani, capitolo 12, verso 1. Aprite le orecchie. Ci scuote. Romani, capitolo 12, verso 1. Ci scuote. Perché lì ci dà il nostro personal ministerio. Tu hai un ministerio. ok? Ci scuote. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Un'offerta a metà, no. Non si tratta di un'offerta parziale o tiepida. Dio vuole tutto il tuo cuore, tutto il tuo corpo, tutta la tua anima. Quando sono andato sul testo greco, quando dice di prestare culto a Dio con il nostro corpo come sacrificio spirituale, sta parlando che tu hai un ministerio per Dio, per presentare il tuo corpo come culto spirituale. Perché tu sei tempio di Dio e nel Santa Santorium c'è la poltrona dove il re deve regnare. Gesù può essere anche nel tuo cuore. Può essere che bussi alla tua porta. Può essere che Gesù è vicino al tuo trono, ma può darsi che non c'è lui sul tuo trono. C'è il peccato, c'è qualche idolo. Gesù vuole tutto per sé o tutto o niente. Lo dovete incoronare dandogli o tutto o niente. Non si tratta di un'offerta parziale o tiepida. Dio vuole tutto il tuo cuore, tutto il tuo corpo. Prestare culto a Dio, dice, è un ragionevole, ok, ragionevole culto spirituale, spirituale. Il testo greco parla di un ministerio. Questo è un vero e proprio ministerio. Presentare il proprio corpo come sacrificio vivente a Dio. È un ministerio. Nel testo greco parla di questo. Ognuno di noi ha questo ministerio personale. Comprendete? È un sacrificio totale, una resa senza riserve. Questo, la parola che ho trovato, è logikos. Questo è il ragionevole, ragionevole, logikos. Lateria. Lateria è un culto, cioè un ministero. Ragionevole. Dice una logica spirituale che convolge tutto il nostro essere. Questo dice il testo greco. È un atto di adorazione che parte dall'intimo. Questo mi ha portato oggi davanti al Signore a fare un patto con Lui. Di impegnarmi davanti al Signore e di rendere culto, di rendere il mio ministerio, del mio tempio, affinché non sia contaminato davanti a Lui. Però ho detto, Signore, però ti chiedo di non tenere conto per i miei errori, perché posso sbagliare. Ma ho preso questo, io ho fatto questo patto. Dovete fare questo patto con il Signore, affinché Cristo impere nel vostro cuore da di dentro e nella vostra vita. Dovete dargli anche la vostra vita. Ok? E vedrete se non si apriranno le cataratte del cielo e fiumi d'acqua viva che scaturiscono dal trono di Dio e dall'agnello, che si riversano dentro di noi e fuoriescono, scorcheranno dal nostro seno in quanto noi abbiamo creduto in Lui. Ma dovete glorificare Cristo. Cristo deve ascendere nel vostro cuore, se volete, da Pentecoste. Ricordate, senza ascensione non c'è Pentecoste, senza glorificazione non c'è riempimento. Che lo Spirito Santo glorifica Gesù Cristo, non a te o a me. Ok? Quindi è un atto di adorazione che parte dall'intimo, dall'anima stessa, fino ad arrivare al corpo, che diventa un Tempio Santo. E fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi, dall'interno verso l'esterno. Ma qual è il segreto per accedere a questa potenza? È la glorificazione di Cristo nel nostro cuore. Giovanni, capitolo 7, verso 38-39, proclama, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di Lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo Egli disse, riferendosi allo Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Che potenza! Lo Spirito Santo non viene dato finché Cristo non è glorificato. Lo Spirito Santo non viene dato finché Cristo non è glorificato. fino a che punto Cristo è glorificato nel tuo cuore? Egli potrebbe essere nella tua vita, nella tua mente, ma ha preso il posto sul trono del tuo cuore? Questo è il punto decisivo. Cristo non vuole essere solo il tuo salvatore, solo il tuo guaritore, solo il tuo pastore. Egli vuole essere il re, perché Egli è il re dei re e il Signore dei signori. Il re è il Signore di ogni parte di te, non parziale, o tutto o niente. Con Dio funziona così. Quando ciò accade, fiumi di acqua viva iniziano a scorrere. Io so che chi sta cercando veramente il Signore già in questo momento è riempito, si ha confessato i peccati, si è santificato davanti al Signore, che sta cercando il riempimento, gloria a Dio. Glorificazione e pentecoste è il processo divino. Glorificazione e pentecoste è il processo divino. Guarda come tutto questo si allinea alla glorificazione di Cristo e alla discesa dello Spirito Santo nella Chiesa Primitiva. E questo è lo stesso schema che deve succedere con te. Atti 2, 33 ci dice, innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, Egli ha effuso quello che ora vedete e udite. Quando Cristo fu glorificato e si sedette alla destra del Padre, il Padre riversò lo Spirito Santo. La stessa cosa accade nel credente oggi, la stessa cosa accade oggi nel tuo cuore, in questo momento, gloria a Dio. Quando Cristo è innalzato nel tuo cuore, nel nostro cuore, e quando tu lo glorificherai, quando noi lo glorifichiamo, lo incoroniamo re su tutto il nostro essere. Signore, io voglio che tu sia il re non solo del mio cuore, ma di tutte le fibre del mio essere, di tutta la mia vita. Signore, prendi tutto, una totale arresa, arresa totale del nostro essere. Allora lo Spirito Santo viene riversato in potenza e fiumi d'acqua viva che rappresentano la vita, la potenza e la guida dello Spirito Santo iniziano a sgorgare dalla tua vita, trasformandoti dall'interno. Apocalisse, capitolo 22, verso 1, ci parla di un fiume che sgorga dal trono di Dio e dall'agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. Immagina, guarda caso, da Dio e dall'agnello. Padre, manda all'ospedale della promessa, da Dio e dall'agnello. Immagina quando Cristo sul trono del tuo cuore. Da quel trono iniziano a fluire i fiumi di vita, di potenza, di guarigione, di trasformazione. E non solo è un'esperienza emotiva o una realtà spirituale profonda che cambia ogni aspetto della tua vita, ma di tutto il tuo essere. Presente, passato e futuro viene spazzato all'istante, si è riempito dalla zoe, dalla vita di Dio. Ok? Se Cristo non è ancora re nel tuo cuore, allora non stai sperimentando il flusso di questi fiumi viventi. Cristo deve imperare nel tuo cuore, ma prima Cristo deve ascendere nel tuo cuore. La scrittura ci dice di santificare Cristo nei nostri cuori. Tremendo non la vede la Pentecoste nella tua vita. La Pentecoste non è un evento del passato, ma una realtà presente che Dio vuol far esplodere nel cuore di ogni credente. Ma c'è una parola chiave, la resa totale. Il segreto della glorificazione. Cosa ci dice in prima Pietro 3,15? Ci comanda, ce lo comanda, ma santificate il Signore Cristo nei vostri cuori. Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi la ragione della vostra speranza che è in voi. Ok? Prima Pietro 3,15 ci comanda, ma santificate il Signore Cristo nei vostri cuori. Santificare Cristo nei nostri cuori significa renderlo santo, esaltarlo, glorificandolo come Signore, soprattutto. Non perché noi dobbiamo rendere santo al Cristo, no? È una resa totale e irrevocabile. Non si tratta solo di parole, di iniezioni, ma è un atto concreto di sottomissione e adorazione. E tutti gli angeli del cielo lo adorino. In tutto ciò che siamo viene messo ai Suoi piedi, in tutto ciò che siamo noi, tutto ai Suoi piedi. E quando lo facciamo, come scritto, lo Spirito Santo viene sparso con potenza, riversando vita su vita. In Prima Corinthians, 16,9-20, ci ricorda chi siamo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete ricevuto da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Molti cristiani pensano che il corpo è loro e ci possono fare quello che vogliono. No! Voi non appartenete a voi stessi. Voi appartenete a Dio. Siete stati comprati con la moneta del sangue di Gesù Cristo. Non appartenete a voi stessi. Il re deve imperare dentro il cuore, non il peccato o l'idolo. Va bene? Non siamo più nostri. Questa è una rivelazione che dovete ricevere, perché la nostra vita è nascosta in Cristo. Siamo stati comprati dal sangue di Cristo. E il nostro corpo, ora, noi, con la nostra mente, dobbiamo usare il nostro corpo come un ministerio per Dio, come sacrificio vivente che gli è gradito. E questo è il nostro ragionevole culto a Dio. Egli vuole regnare in noi e quando lo fa i fiumi d'acqua viva scorrono in noi attraverso di noi. Questo è il risultato di una totale sottomissione, una resa incondizionata. Conclusione. Cristo sul trono porta la Pentecoste. Ok? Cristo sul trono porta la Pentecoste. Perciò, fratelli e sorelle, se ancora non avete vissuto la vostra personale Pentecoste, è il momento di chiedervi, Cristo è davvero glorificato nel mio cuore? Sta Egli regnando sul trono del mio essere? La glorificazione di Cristo nel cuore è il prerequisito per vivere la pienezza e lo Spirito Santo nella mia vita? E quando questo accade, i fiumi di acqua viva, come promesso, scorcheranno da noi. Giovanni 7,38. Inizieranno a scorrere dal tuo cuore e vivrai una trasformazione radicale che ti renderà un vero ministro del Signore. Non aspettare oltre. Glorifica oggi stesso Cristo nel tuo cuore dopo la live. In ginocchio e buttati a terra. Fallo a scendere sul trono della tua vita. Arrenditi completamente a Lui e guarda come i fiumi di acqua viva iniziano a sgorgare, portando vita, potenza e trasformazione. Questa è la tua Pentecoste. La tua Pentecoste. La stessa potenza che trasformò gli Apostoli è disponibile per te, qui e ora. Ma ricevilo, ricevilo, ricevilo per fede. Perché sta scritto in Cristo Gesù che noi ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Leggi Galati 3,14. Per fede. Per fede. Ma se ti dovessi chiedere, ma io non ho un ministero particolare. Innanzitutto già c'è il ministero del tuo corpo perché non è più il tuo corpo ma è il Tempio di Dio. Sei stato comprato a caro prezzo. E il cuore è il trono del Signore Gesù Cristo. Comincia a fargli spazio perché tu non appartieni a te stesso. Ok? Tu hai già un ministero che è il culto che devi prestare a Dio sul tuo corpo. Santificare Cristo nel tuo cuore. Quindi devi essere libero da ogni peccato, interiore ed esteriore. Ok? Quindi già ce l'hai un ministero. Santificare il corpo. Santificare Cristo nel tuo cuore. Questo è il primo ministero che hai. Uno. Poi ti voglio dire una cosa. In atti capitolo 6 verso 3, anzi verso 2, ascoltate un attimo. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle menze. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini i quali abbiano una buona testimonianza e pieni di spirito. Ai quali affideremo questo incarico. C'è in altre parole. Hanno trovato, e uno di questi era Stefano, dovevano essere i pieni di spirito per servire alle menze. Ma vi rendete conto? Quindi di che cosa hai bisogno tu come ministero, fammi capire, per ricevere. Ok? Quindi atti capitolo 6 verso 3, si ricercarono persone piene di spirito santo per il seguente servizio. Attività, pratiche amministrative, servire alle menze, ai poveri, aiutare gli anziani, eccetera. Devono essere pieni di spirito santo. Se tu sei un cristiano nato di nuovo, non puoi non testimoniare di Cristo. E Gesù Cristo stesso ha detto, Gesù Cristo stesso ha detto sarete miei testimoni e dobbiamo ricevere la potenza dall'alto. Capitolo 1, Atti verso 8. Questo è solo l'inizio. Dopo devi ricercare continuamente il riempimento dello spirito santo, questa fresca unzione. Ogni giorno. Se vuoi pregare e ti vuoi accostare alla parola di Dio, vuoi ascoltare la sua voce, vuoi appropriarti delle promesse di Dio, lo vuoi lodare, lo vuoi adorare. Per chi Egli è, come tuo Signore, personale salvatore, beh, sappi che hai bisogno di essere riempito di spirito, poiché è un comandamento. E Dio non vuole darci degli optional. Dio ci dà i comandamenti, non degli optional. Ricorda bene queste parole che ti dico. Purificazione, santificazione, chiedi, ricevi, perfeda. Queste cinque cose. E riceverai la promessa dello spirito santo per essere riempito continuamente del suo tanto spirito. Quali sono gli ostacoli per la pienezza? Uno, mancanza di purificazione. Secondo ostacolo, mancanza di consacrazione, e quindi santificazione. Terzo scoglio, ostacolo, mancanza di conoscenza di questa promessa, perché non la conosci e non la chiedi, e quindi non la ricevi. Quarto ostacolo, non sai ricevere, perché oltre a non chiedere, chiedi male. Punto cinque, incredulità alla fede. Quindi togli questi scogli alla pienezza, e purificati, consacri da Dio, chiedi il dono della promessa, ricevilo da Dio che già te l'ha preparato per fede, ok? Richiamando alla necessità di una resa totale per sperimentare la pienezza e lo spirito santo nella vostra vita è essenziale. Buona Pentecoste a tutti. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi chiedo, vi chiedo, quando finite di guardare questa live, inginocchiatevi, buttatevi a terra, chiedete perdono di ogni peccato consapevole, confessatolo a Dio, chiedete allo Spirito Santo di purificare i vostri cuori con il sangue di Gesù Cristo, pentendovi, e chiedete al Padre di concedervi il dono del ravvedimento su questi peccati. Dopo, avete fatto questo, consacratevi a Dio, preghiera, lettura al Signore, regno di Dio, evangelizzazione, tutto, tutto, tutto Dio, dentro e fuori di noi, glorificate Cristo nei vostri cuori, santificate Cristo nei vostri cuori, fate ascendere Gesù dopo che avete purificato e consacrate il vostro cuore al Signore, e quando Lui si siede, come si siede, impera, è come impera, fiumi d'acqua viva, sgorgeranno dal vostro cuore, e chiedete per fede, Signore Gesù, riempimi, Signore Gesù, Tu sei glorificato nel mio cuore, sei glorificato nella mia vita, io mi arrendo totalmente a Te, Spirito Santo, fammi vedere se c'è qualcosa dove non c'è la mia resa, portamela qui, vado al Padre e la confesso, e chiedete a Gesù di riempirvi col Suo Santo Spirito, ogni giorno chiedete quest'unzione, e ogni peccato non deve avere, non deve avere la possibilità di atteccare dentro di voi, come dice il Signore Gesù, Satana non ha nessun potere dentro di me, togliete il peccato, purificatevi, consacratevi, glorificate e santificate Cristo nei vostri cuori, chiedete e ricevete per fede, gloria a Dio, questa è una promessa per voi, per i vostri figli, e quanto ancora il Signore ne chiamerà, il batteso dello Spirito Santo una volta sola, il riempimento e l'unzione è ogni giorno, ogni giorno, gloria a Dio, leggete il Libro degli Atti, il Signore vi benedica e che vi riempia del Suo Santo Spirito, ogni persona che ha visto questa live o che vedrà questo video, diceva dal lente, va su, perché non dobbiamo, perché dobbiamo vivere sempre nel mistero, mistero, infatti noi dobbiamo vivere nel mistero, noi dobbiamo camminare per fede, non per mistero, allora, gloria a Dio, allora, chi non comprende non potrà mai capire l'essere meraviglioso che è Cristo e di quanto si sta bene, gloria a Dio, amen, amen, in ginocchio davanti a Dio, voglio vedere che appartiene a Lui, arresa, arresa totale, santificate Cristo nei vostri cuori, nulla di nascosto deve rimanere nei vostri cuori, nessun peccato consapevole deve rimanere nascosto, nessuno, nessuno, perché Cristo non può sedersi dove c'è del peccato, perché Egli è luce e in Lui non ci sono tenebre, vorrei trovare persone piene di Spirito Santo, vorrei trovare persone piene di Spirito Santo, beh, azzurro, il primo che deve essere il Spirito Santo sei tu, fate questo patto con il Signore, fate veramente un patto con il Signore, di rendere culto del vostro Tempio che è il corpo, che non è nostro, questo Tempio, ok, il nostro è un ministerio, di rendere culto nello Spirito, al nostro Dio, del nostro corpo che è il Tempio dello Spirito Santo, santificando Cristo nei nostri cuori, un bacione a tutti e il Signore vi benedica, è un sacco, è un sacco, io le faccia